Ciao, sono Mauro, sono ospite presso il centro Umberto Pazzone, presso la comunità Timone di Acet, mi sto preparando per il Natale in un modo diverso, nel senso che questo Natale io lo trascorrerò presso il monastero di Germania, essendo io cristiano e cattolico, mi sto preparando a questa esperienza, allora parliamo proprio sul posto che io già ho fatto un'esperienza di quattro giorni in questo monastero, è stato molto positivo, questi monaci mi hanno lasciato tanto, sono stati molto umani e molto umili con me e questo mi ha colpito tantissimo, per cui il pensiero, ovviamente ho chiesto loro la possibilità di partecipare, cioè di fare il Natale, anzi faccio un passo indietro, io ho chiesto di tornare da loro per lavorare con loro, visto che ci eravamo lasciati con questa promessa e loro mi hanno risposto dicendomi no, non devi lavorare con noi, devi venire a pregare e vivere con noi, questa frase mi ha lasciato molto, mi ha toccato il cuore, per cui per come sono fatto io, una persona che vive le emozioni, vive, si lascia toccare molto a livello sentimentale, proprio al cuore, non al cervello in questo caso, voglio vivere questa esperienza, un Natale che per me potrebbe sicuramente dare tantissimo a me, ma potrebbe essere un'esperienza da riportare ad altri. di prima, ciao a tutti, buon Natale. venite, o pastori, è nato un bambino, una vergine locuce, ai ceni l'adorà, Cessarono i cieli la loro armonia, cantando Maria, la nanna Gesù, cantando Maria, la nanna Gesù. venite, o pastori, è nato un bambino, una vergine locuce, ai ceni l'adorà, la moce divina, la vergine bella, più vaga che stella, adora Gesù. più vaga che stella, adora Gesù. a voce divina, la vergine bella, più vaga che stella, adora Gesù. più vaga che stella, adora Gesù. 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 Grazie a tutti